Ho la magia giusta per quello, sai? Ne hai già usato abbastanza per oggi. Piccola pausa? A noi? Perché hai chiesto di me? Qui c'erano già Jace e Clary. Jace no? Te l'ha detto? Non importa. Comunque non era vero. Siete così creptici voi stregoni. No, non direi creptico. Magari schivo. Permettimi di essere sincero. Volevo vederti ancora. Perché? Perché sei qui? Non lo so. Per quasi un secolo mi sono rifiutato di provare qualcosa per qualcuno. Uomo o donna. Tu mi hai sbloccato dentro. Ehi, madre. Sì, certo. Il dovere chiama. Ah, ah. Che aria preoccupata. Tua madre ha chiamato per un compito sconveniente. Senti, Magnus, io vorrei, è solo che io non so quello che... Lo capisco. Resta per un altro drink e poi decidi. E poi decidi.